Il mio primo video è partito dicendo SIGLA E già disturbato da Serafino, ho aperto questo non per diventare famoso, che ora non sono, ma per parlare con te della mia passione Cioè l'astronomia, ma alla fine questo è e stai dando un qualcosa che non mi sarei mai aspettato Grazie alla Serafino community, come ad esempio Serafino, Gianfrancaldo, Lamarisa, Gianfrancalda Che rendono un video per un po' più divertente, anche se mi disturba, non è perché mi disturbare mi disturbano sempre Ma soprattutto grazie anche a te, che mi supporti e mi sopporti nei video Come detto prima, questo è diventando qualcosa che non mi sarei mai aspettato Perché sì, parlo di astronomia, ma parlo anche di curiosità Un esempio, quando ho creato un'avventura anticaldo, fra due mesetti ci sarà San Serafino Un nuovo festival creato da Serafino, condotto da Serafino Oppure di esperienze, un esempio il video fuori dalla comfort zone che parla di un viaggio in Veneto Di Natale, dove spiego la mia stanza e come ho fatto la stanza natalizia Come anche Serafino è diventato, come Serafino è diventato un elfo E anche un video magico, che dove la Serafino community ne ha combinata una delle sue Insomma, Luca mi vuole dire Grazie a tutti Ho perso il mio microfono, non lo trovo più Eh vabbè Grazie a tutti per il supporto che state duando E noi ci vedremo in prossimo video Ciao Grazie a tutti Allora ti aspetto la prossima settimana Ciao